Stiamo vivendo uno shock senza precedenti, con costi umani, ma anche sociali e economici molto alti. Oggi noi abbiamo un dovere che quasi è un dovere morale. Siamo tutti chiamati a svolgere un compito grande. L'Italia ha dato un buon esempio in Europa. Grazie Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.